Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake al merone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 10 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti per la cheesecake sono biscotti, burro fuso, panna fresca, zucchero, gelatina in foglie ammollate in acqua fredda, yogurt greco alla vaniglia o yogurt alla vaniglia e formaggio spalmabile. Per la gelatina, zucchero, melone tagliato a pezzetti e gelatina ammollata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 5. aggiungere il burro fuso e razionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4. trasferire il composto in uno stampo da 24 centimetri rivestito sul fondo con carta da forno e sui laterali con pellicola trasparente un foglio d'acetato. Riporre in frigo per 20 minuti senza lavare il boccale mettere la panna il formaggio spalmabile lo yogurt lo zucchero e la gelatina ben strizzata ed azionare il bimbi per 2 minuti 50 gradi velocità 5 versare il composto sulla base dei biscotti riporre in frigo per almeno sei ore trascorso il tempo preparare la gelatina mettere nel boccale il melone ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere lo zucchero e la gelatina ben strizzata ed azionare il bimbi per 4 minuti 40 gradi velocità 3 lasciare raffreddare per 10 minuti trascorso il tempo trascorso il tempo azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4 la gelatina è pronta a versarla sulla torta riporre in frigo per almeno quattro ore trascorso il tempo la cheesecake è pronta a decorare e servire cheesecake al melone grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti